e allora siamo arrivati invece al momento importante e serio della nostra trasmissione infatti ecco come l'abbiamo rotto chiediamo quindi scusa all'ospite di oggi Giancarlo Restivo, buongiorno Giancarlo buongiorno, buongiorno a tutti allora con Giancarlo ovviamente parliamo di sicurezza sul lavoro perché tu sei tra tutte le cose poi adesso vediamo che c'hai un passato da musicista un futuro da scrittore ma sei anche il segretario generale della nazionale sicurezza sul lavoro che è la nazionale di calcio appunto che cerca di sensibilizzare e portare in giro appunto il tema della sicurezza sul lavoro esatto, lo scopo delle nazionali sociali la categoria si chiama così è quello di andare in giro per l'Italia e promuovere i valori ok, nel nostro caso specifico sono i valori del buon lavoro e della sua sicurezza e quindi noi che ci identificano un po' come la nazionale rappresentativa del mondo del lavoro il giornale ormai ci chiamano così gli azzurri del lavoro promuoviamo i valori della sicurezza sul lavoro ci chiamano i safety players ci chiamiamo i safety players e quindi adesso siamo appena reduci dall'HSK Roma giocata con la nazionale parlamentare la nazionale vaticana com'è andata? secondi ha vinto il Vaticano il quadrangolare va bene, sono spinti dall'alto quindi no esatto, esatto però come dire ci siamo giocati la finale fino alla fine è andata molto bene e adesso fra poco altro appuntamento qua vicino a Milano perché è da Bergamo giusto? esatto, fa poco esatto per la Coppa del Mondo del Lavoro il 30 settembre nel Bergamasco al Cologna al Serio allo stadio Facchetti ci sarà l'evento più importante dell'anno è l'evento maggiore che giochiamo tutti gli anni che è la Coppa del Mondo del Lavoro appunto che verrà giocata con la nazionale giornalisti RAI la nazionale sindace è una rappresentativa città della cultura perché diciamo appunto Bergamo è città della cultura composta dall'ATS e dagli imprenditori il tessuto imprenditoriale del territorio è interessante che la vostra nazionale viene definita la nazionale del lavoro quindi fa capire quanto il tema della sicurezza del lavoro è fondamentale quando si parla di lavoro quindi è vero che è un tema difficile con il lavoro perché ce n'è poco è difficile i ragazzi avevano fatica a trovarlo quando lo trovano poi è anche complicato tenerselo e farlo in sicurezza però giusto? esatto per noi la sicurezza sul lavoro non è qualcosa di appiccicato al lavoro ma è qualcosa che è coincidente la sicurezza sul lavoro viene comunicata un po' molto come servizio posso dire quasi come una scocciatura a volte sì sì cioè che cavo devo mettere il caschetto e che cavo devo mettere tutte queste norme di sicurezza che sarà mai e poi i giornali ci rispondono a capire percepita come come un peso pubblicizzata dai giornali o comunque dai media in generale quasi sempre ha fatto accaduto mentre noi cerchiamo innanzitutto di comunicarla come passione per la vita e per il lavoro per noi il senso del lavoro coincide col senso della vita quindi se uno ha una prospettiva positiva per la vita ha anche una prospettiva positiva nel lavoro e quindi per noi avere un orizzonte appassionato per la vita questo influisce anche nel lavoro e poi anche la chiave di lettura che diamo alla sicurezza sul lavoro per noi è una tradizione un modo di lavorare quindi una questione di metodo è una questione come dire un contenuto tutte le volte che accade un fatto noi possiamo imparare da quel fatto e quindi trasmettere quello che impariamo per questo lo chiamiamo tradizione per questo lo chiamiamo capito capito chiarissimo quindi insomma è imprescindibile come dicevi il tema di sicurezza il tema lavoro sono imprescindibili allora Giancarlo io ti chiedo di rimanere ancora qui con noi perché continuiamo appunto a parlare con Giancarlo Restivo dopo una piccolissima pausa come sempre qui su Crystal Radio e siamo ancora qui con Giancarlo Restivo facciamo un po' chiacchierando fuori diciamo appunto come il racconto delle situazioni poi avviene solo a fatto avvenuto fatto più grave tra virgolette migliore per il giornale così almeno fa un bel po' di click poi però dal giorno dopo non se ne parla più invece tu dicevi attenzione per la soluzione del lavoro poi è un tema se tralasciato che va a toccare la vita di tante persone esatto dicevamo prima non è disgiunto dalla vita ok quindi noi non pensiamo solo anche al fatto estremo no quindi il la morte sul lavoro pensiamo anche a un infortunio importante pensiamo cioè ci sono dei fatti che possono accadere nel lavoro che comunque ti cambiano la vita ti cambiano il rapporto con la vita se hai un infortunio importante il tuo modo di vivere cambia completamente dal giorno dopo che ti è accaduto devi riabituarti a vivere in una in una determinata maniera se vogliamo guardare al caso estremo gli affetti di quella persona gli viene cambiata la vita quindi ogni cosa che noi facciamo influisce sulla realtà circostanze immaginiamo come cambia invece un fatto dirompente come un infortunio come la morte sul lavoro quindi è determinante e poi condivido assolutamente il fatto che debba essere un campanello d'allarme costante nella vita lavorativa e non ti volevo chiedere Giancarlo soprattutto in riferimento ai recenti fatti di Brandizzo sappiamo benissimo la tragica vicenda si parla sempre si utilizza sempre il termine come dici te a posteriori la strage era evitabile ecco cosa si può fare adesso si sta parlando fuori onda dei corsi per esempio cosa si può fare di concreto cioè come possiamo evitare per rendere realmente evitabile per rendere realmente evitabile e non dirle basta sì Lorenzo allora più cosa si può fare posso dirti cosa noi facciamo cosa stiamo cercando di fare ok beh innanzitutto dal punto di vista legislativo abbiamo fatto una proposta che è stata approvata e adesso aspettiamo l'attuazione che introdurre la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in Italia tutti venivano formati a parte la figura apicale la figura che decide la figura che ha necessità di avere maggior maggiori competenze che ha bisogno di avere le chiavi di lettura su questo problema siamo riusciti a far approvare questa norma è una norma che abbiamo promosso sin dall'inizio su nostra iniziativa come Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro ma anche come nuova organizzazione di imprese che è l'associazione italiana di imprenditori che io presiedo in Italia e abbiamo portato questa cosa quindi adesso si aspetta da un accordo stato-regione attuativo di questo tipo di formazione quindi già un passo concreto abbiamo iniziato a farlo dopodiché molto interessante effettivamente perché il mulettista e la receptionist fanno il corso per la seguenza sul lavoro l'imprenditore no e quindi effettivamente tu dici anche se non per capire la responsabilità che ha su chi sta sotto di lui esatto è proprio questa la chiave la chiave di volta che vogliamo introdurre nel guardare al problema e l'altro argomento su cui stiamo lavorando è l'educazione perché per noi la sicurezza sul lavoro è una proposta educativa dicevamo prima un modo di lavorare per cui stiamo promuovendo una proposta di introdurre la sicurezza sul lavoro all'interno del percorso di educazione civica nelle scuole perché i ragazzi sono i lavoratori del futuro per cui dobbiamo lavorare sulla prevenzione per lavorare sulla prevenzione devi comunicare la sicurezza sul lavoro attraverso una forma educativa e quindi quale ambito migliore dell'educazione civica quanto Giancarlo secondo te è andato a influire anche il fatto del cambiamento del lavoro cioè una volta si lavorava un po' molto più in fabbrica e quindi forse avevamo questa idea della sicurezza forse nonostante ci fosse meno sicurezza c'eravamo un po' più in testa tutti quanti stavamo anche più sicuri noi adesso insomma facciamo molti servizi siamo molti riseduti ma però comunque la sicurezza anche in quei posti serve ed è importante quando forse abbiamo perso la percezione anche di quanto è importante la sicurezza per noi ma allora in realtà a ogni nuovo nato si ricomincia sempre da capo no? e quindi non è che si è persa la percezione noi normalmente abbiamo una percezione del rischio si chiama no? io dico sempre ce l'abbiamo dal naso a per terra uno dice ma a me cosa mi accadrà mai no? niente ok non abbiamo questa perché io sto sto attento ho il polso della situazione conosco il mio mestiere bene tutto giusto ma la questione non è cosa accadrà a te ma se tu la fai storta o se in qualche maniera come dire la fai a casaccio quella cosa lì produci una serie di circostanza cioè ogni cosa che noi facciamo bella o brutta che sia produce circostanze o dritte o storte ok sulla vita delle persone che ci stanno attorno se noi che ne so ad esempio mio figlio si sveglia tardi stamattina ok oppure fai capricci per non andare a scuola e io arrivo in ritardo in ufficio e tutti ritardano in ufficio che cosa vuol dire? vuol dire che la libertà individuale in sé nell'esperienza non esiste esiste la libertà sociale per cui dobbiamo avere questa consapevolezza direi che su questo bell'esempio della squadra di calcio perfetta cioè se ti passa la palla male non si va in rete esatto è quello quindi ecco forse dovremmo fare due informazioni anche sul campo con voi appunto adesso quindi quali saranno i prossimi passi questo allora un designo di legge cioè la richiesta di questo designo di legge molto interessante ci vorrà ancora un po' di tempo però giusto mi dicevi per l'attuazione allora sull'accordo stato-regioni in realtà si attende a pochissimo datemi la mossa ok datemi la mossa ragazzi esatto che si sbrighino su questo aspetto perché sono già in ritardo tra l'altro dall'anno scorso non mi stupisce saperlo non so perché Giancarlo non mi stupisce esatto quindi poi l'introduzione abbiamo elaborato già un testo che verrà presentato molto probabilmente alla coppa del mondo del lavoro appunto per introdurre la sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'educazione dell'educazione civica poi noi stiamo siamo in tutta Italia tutto l'anno a giocare partite per far trasformare la sicurezza sul lavoro in un come dire in una sensibilità di popolo ok è un po' come la fede per noi perché è importante comunicare noi diciamo due aspetti il motto della nazionale è la sicurezza sul lavoro si fa in squadra quindi già questo dà la percezione che non è non la produce il singolo ma la producono non è una questione individuale esatto non è una questione individuale ma poi noi invitiamo la gente a tifare per la sicurezza sul lavoro perché un valore in sé è astratto noi pensiamo all'amore l'amore normalmente è astratto noi pensiamo tutta la vita di cercare l'amore ma in realtà cosa è che cerchiamo cerchiamo un volto qualcuno che ci voglia bene ecco questo accade anche per la sicurezza sul lavoro noi cerchiamo dei volti e quindi in questo caso la rappresentativa è una squadra che incarni questo valore non si è sentito quanta poesia nelle parole di Giancarlo molto ma perché come dicevo prima ha anche un presente futuro da scrittore che ci racconterà fra pochissimo dopo la prossima canzone adesso è il momento di Mahmood con Bario e poi appunto torniamo con Giancarlo Restivo che hai avuto anche un passato da musicista giusto mi dicevi e che musicista ma ne parliamo fra pochissimo sempre qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano 8.45 a fra poco 8.48 minuti mercoledì 13 settembre siamo quasi in chiusura ma prima di chiudere appunto siamo qui con Giancarlo Restivo diciamo Giancarlo allora un passato da musicista no? tu hai avuto sì raccontaci un po' quello che mi hai incuriosito eh sì mi hai incuriosito tantissime cose infatti esatto esatto no vabbè io suono e faccio il cantautore da tanti anni ho avuto diverse band io normalmente ho fatto rock italiano anche in inglese eh ho girato parecchio e niente tutto tutto poi come dire ha avuto un culmine a un certo punto ha avuto un culmine con il Saremo Music Award nel 2017 questo premio alla carriera dopo vent'anni da cantautore da musicista e e questo in realtà ha aperto altre chiavi di lettura dovevi portarci un cd e lo mettevamo su cavolo che è saperlo su Spotify c'è ad esempio una antologi di 50 brani Giancantologi si chiama perché appunto a me mi conoscono come come Gianc io sono molto fortunato perché tra i miei faccio l'imprenditore nell'ambito sicurezza sul lavoro i miei maggiori ascoltatori sono i dipendenti delle aziende miei clienti e quindi c'è un bel giro con cui ogni tanto che è anche un ottimo feedback del tuo lavoro evidentemente assolutamente di tuo lavoro da imprenditore assolutamente assolutamente appunto infatti c'è questa mia visione un po' a 360 gradi molto familiare rispetto a come normalmente sono visti i consulenti per la sicurezza sul lavoro e niente addirittura mi capita spesso che i miei live siano organizzati dai miei stessi clienti cioè clienti chiamano una serie di altri imprenditori una serie di amici e organizziamo una serata assieme per per suonare e cantare assieme e aggiungo un altro tassello alla tua biografia perché oltre a questo scrivi anche infatti adesso c'è invece un futuro anzi un presente da scrittore giusto? sì sì io recentemente recentemente ormai da qualche anno ho fatto un exploit con una trilogia composta da un romanzo una novella e un'opera teatrale una trilogia che si chiama intitolata Il destino nelle sue mani ok quindi un fantasy contemporaneo molto alla Dan Brown però in chiave italiana chiamiamola diciamo così in chiave tutta italiana che in realtà è diventato bestseller Amazon lo troviamo ancora sì lo troviamo su Amazon ricordiamolo il titolo Il destino nelle sue mani perfetto Giancarlo Restivo Il destino nelle sue mani più tanti ho una collana di saggi in ambito sicurezza sul lavoro un'altra collana di saggi nell'ambito diciamo della tradizione cristiana perché appunto soprattutto in Italia noi non possiamo non parlare del nostro ma quando dormi c'è la domanda è questa quando fai tutte queste cose c'è il resto ma in realtà scrivo tanto durante i viaggi durante i viaggi di lavoro in treno ne colgo l'occasione perfetto allora Giancarlo grazie davvero di essere stato oggi qui il nostro ospite ricordiamo Bergamo 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 il 30 settembre la coppa del mondo del lavoro esatto nazionale sicurezza sul lavoro e poi tante altre nazionali appunto per fare una giornata insieme nell'insegna appunto della sicurezza sul lavoro dove possiamo trovare qualche informazione sulla nazionale c'è il sito internet www.nazionalesicurezzasullavoro.org perfetto grazie mille a Giancarlo Restivo e caro mio Lorenzo sai cosa ti dico? siamo arrivati alla fine eh sì a Giancarlo Restivo 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 a Giancarlo Restivo